I viaggi tessili sono esperienze sul filo della tessitura in giro per il mondo, alla scoperta delle tessiture tradizionali. Partecipare ad un viaggio tessile permette di imparare tecniche locali direttamente dagli artigiani del posto, di visitare i loro laboratori e conoscerne le storie, fra tradizione, design e contemporaneità. Guore pulsante dei viaggi tessili sono i workshop. Avendo a disposizione laboratori selezionati, l'esperienza artigiana e un telaio dedicato, si realizzano campioni di tessuto con tecniche e materie prime locali. Durante il viaggio ci si immerge nelle usanze, si assapora la gastronomia, si scoprono cultura e storia degli itinerari scelti. Matteo Salusso, costruttore di telaie e insegnante di tessitura, e Alejandro De Ben, organizzatore e accompagnatore di viaggi su misura, hanno saputo unire le loro passioni per creare esperienze uniche. Mettersi in viaggio con loro porta ogni partecipante a scoprire la magia dei luoghi e il fascino secolare dell'arte tessile.